Domenica 25 voterai per scegliere non solo il partito, ma per scegliere il deputato, il deputato del collegio. Ti chiedo il voto perché io sono innamorato di questo territorio. Ho lavorato per questa comunità. Negli anni in cui ho guidato l'azienda dei trasporti di Torino, ho costruito la linea 1 di Metropolitana. Nei cinque anni trascorsi alla Camera dei Deputati, ho portato alla città di Torino 2 miliardi per la linea 2 di Metropolitana. L'impegno che prendo oggi per la prossima legislatura è quello di trovare le risorse per far proseguire la metropolitana verso nord e portarla tra Settimo e San Mauro e per farla proseguire verso ovest fino al centro della città di Rigoli. Credo che la politica sia fatta anche dalle cose concrete. Ne ho fatte fino adesso e il mio impegno è di continuare per dare una mano a questo territorio e a crescere, diventare più bello, più accessibile, più fruibile per tutti.